Cerchiamo l'indirizzo su Google Maps. Individuiamo l'edificio. Premiamo il tasto destro del mouse e prendiamo le misure. Premiamo il tasto stamp sulla tastiera per memorizzare l'immagine dello schermo. Passiamo sul CAD e incolliamo l'immagine. Scaliamola con il comando di PONCAD Scala Immagini. Basta la misura di un lato. Disegniamo un ponteggio a telai con il comando Ricalca. Specifichiamo il modulo base. Impostiamo altezza ed il tipo di tavole. I moduli box sono pronti e possono essere modificati se necessario. Avviamo lo sviluppo 3D del ponteggio. Ancoraggi. In pochi secondi il disegno è fatto. Chiediamo il computo del materiale su Excel. La lista può essere usata per lo sviluppo di un preventivo.